ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table oggi risponderemo alla domanda a che gioco stiamo giocando con white castle un gioco leggermente differente rispetto a quelli che siamo abituati a vedere qui a round table ma che quando ho visto sugli scaffali delle novità degli amici di irtemis ho dovuto necessariamente acquistare in questa scatola pesantissima ho trovato un gioco estremamente soddisfacente e dalle meccaniche estremamente elegante ma banda alle ciance se andiamoci attorno al tavolo scopriamo white castle posizioniamo al centro del tavolo il bellissimo tabellone e recuperiamo le carte diplomatici amministratori mescoliamo separatamente i due mazzi e piazziamoli negli slot corrispondenti scopriamo le prime due carte blu e piazziamole in questa zona delle stanze del castello facciamo lo stesso con le carte gialle nelle partite in due giocatori non giocheremo con le carte che riportano questo diamante in basso a sinistra recuperiamo anche il mazzo delle carte daimo mescoliamolo prendiamo una sola carta che piazzeremo qui al terzo piano del nostro castello è il momento delle tessere dado dovremo piazzare queste tessere con il dado rivolto verso l'altro in tutti gli slot riportanti un quadratino a partire da questi che hanno un diamante rovesciato in questi spazi metteremo un token per colore casualmente e piazzeremo tutti gli altri seguendo la numerazione presente nei vari slot facendo attenzione che ci debbano essere in ogni stanza dadi di almeno due colori quando arriveremo al 6 se dobbiamo piazzare un dado dello stesso colore di quello già presente lo saltiamo e lo mettiamo dopo nello spazio di dopo le ultime due tessere andranno piazzate scoperte in questa zona del tabellone il cosiddetto pozzo piazziamo la statua perché secondo me è una statua turno nel tracciato dei turni ovviamente nel primo tu creiamo anche una riserva con i token moneta da 1 in azzurro e 5 monete in oro i segnalini daimo e i segnalini più 40 più 80 per il punteggio a questo punto piazziamo i bellissimi ponti a seconda della colorazione sul tabellone potete anche giocare senza i ponti ma sono molto belli occupano tantissimo spazio nella scatola e quindi io ve li faccio vedere e a questo punto prendiamo i dadi a seconda di quanti giocatori sono seduti a round table prenderemo tre dadi dello stesso colore se giochiamo in due quattro dadi dello stesso colore se giochiamo in tre e cinque dadi dello stesso colore se giochiamo in quattro prenderemo i dadi e li rolleremo piazzeremo i dadi a partire dal più basso a sinistra e in ordine crescente fino arrivare a destra questa è la morte nelle mani sotto i ponti piazzeremo le carte giardino abbiamo giardino di pietra e giardino di pianta mescoliamo separatamente mazzi e mettiamo nei corrispondenti slot le carte giardino di pietra e giardino di piante è il momento dei cortili di addestramento prenderemo i token in questa forma e li piazzeremo casualmente su ogni cortile di addestramento i token sono fronte retro e quindi dovremo piazzare ad esempio il giallo sul giallo ma dietro c'è un azzurro quindi avremo potuto piazzarlo qui ed è arrivato il momento del setup personale di ogni giocatore che prenderà una plancetta personale la piazzerà dinnanzi a sé facciamo finta di giocare in due quindi prendo due plancette ma potrebbero scomparire sulla nostra plancia personale andranno i membri del nostro clan e abbiamo cinque guerrieri da piazzare in questo spazio cinque contadini da piazzare immediatamente più su e infine cinque cortigiani prendiamo un cubetto giallo uno bianco e un argentato e piazziamoli nello slot zero del cibo per quanto riguarda il cubetto giallo bianco per quanto riguarda la madre perla e grigio argento per quanto riguarda il ferro così posizioniamo i token ventaglio accanto al tracciato dei punti e i segnalini influenza accanto al tracciato dello scorrere del tempo sull'aerone in ordine del tutto casuale se ce ne fossero di più potremo tranquillamente impilarli sul tracciato dell'ordine del turno piazzeremo gli ironi seguendo l'ordine casuale stabilito dai token influenza prendiamo le carte risorsa iniziale in arancione mescoliamole e piazziamoli sul tavolo scoprendo tante carte quanto sono i giocatori seduti a round table più uno facciamo lo stesso con le carte azioni iniziale mescoliamo in ordine inverso rispetto al turno i giocatori prenderanno risorse ed azioni iniziali in questo caso il blu prende queste questo set e andiamo a prendere quindi dovrò prendere due cibo due ferro una madre perla quattro monete e un sigillo daimo il sigillo daimo ovviamente andrà in questa zona e le monete le metto un po dove voglio sperando che il verde non le rubi a questo punto prendo i due cibo i due ferro la madre perla e piazzo la carta risorsa iniziale qui accanto a questa icona con la lanterna facendo in modo che combacino perfettamente la carta azione iniziale andrà qui alcune carte risorsa possono farci ottenere una carta editto che sono queste in bianco nel caso così fosse la piazzeremmo direttamente accanto alla lanterna ma non è questo il caso sembra proprio che siamo pronti per giocare white castle un gioco da due a quattro giocatori che ci porterà nel giappone medievale in questo gioco dovremmo fare di tutto per portare il nostro clan all'attenzione del daimo per farlo dovremmo fare delle ascese sociali allenare i nostri guerrieri e anche dimostrare la maestria dei nostri contadini il tutto facendo attenzione a come adoperare i dadi e questa volta non si dovranno rollare o almeno non molto ma vediamo nello specifico come si gioca white castle ogni partita di white castle si articola su tre round ogni round è composto da tre turni all'inizio del nostro turno dovremmo scegliere uno dei dadi che si trovano sulle zone esterne dei ponti quindi quello col valore maggiore e quello col valore minore e piazzarlo dove sono presenti le icone con i dadi la nostra area di gioco è suddivisa in vari settori qui abbiamo il castello questo è l'ingresso del castello qui abbiamo i cortili di addestramento questi è fuori le mura qui abbiamo il pozzo e infine abbiamo la zona dei giardini e dei punti quando prendiamo uno dei dadi faremo in modo che quelli che rimangono vengano spostati verso l'esterno se decidessimo di prendere il dado con il valore più basso ovvero quello più esterno a sinistra otterremo automaticamente il bonus lanterna che ci consentirà di ottenere le risorse presenti accanto alla lanterna nella nostra plancia personale le regole di piazzamento dei dadi sono molto semplici dovremo semplicemente andare a coprire con il nostro dado l'icona che riporta l'immagine del dado quando andiamo a coprire l'icona di un dado con un dado che ha un valore superiore a quell'icona stessa otterremo la differenza in monete ma se dovessimo coprire un dado con un valore maggiore del nostro dato dovremmo pagare la differenza in monete nelle partite a 3 4 giocatori è possibile piazzare più dadi nello stesso spazio impilandoli però soltanto due dadi possono essere impilati di più non ce ne possono andare nelle partite a due giocatori no quando piazziamo un dado in una stanza andremo ad attivare l'azione corrispondente al colore del dado che abbiamo adoperato mediamente ci troveremo di fronte a delle icone con un numero se il numero rosso pagheremo quella cifra in risorse se il numero è nero le guadagneremo in questo caso se avessi giocato un dado bianco avrei ottenuto due punti influenza e quindi avrei potuto spostare di due il segnalino influenza sul tracciato dell'influenza e delle stagioni ma non è così nel pozzo possiamo mettere quanti dadi vogliamo non c'è l'esclusività e il pozzo avrà sempre valore 1 quindi a meno che non piazziamo un dado di valore 1 beccheremo sempre delle monete assieme alle monete beccheremo anche un sigillo da emo e le risorse corrispondenti quindi in questo caso una di quelle che vogliamo tra ferro cibo e madreperla è una moneta quando decidiamo di piazzare un dado fuori le mura a seconda dello slot che andiamo a coprire in questo caso avrei dovuto pagare la moneta perché il mio dato è di valore inferiore potremmo scegliere alternativamente se applicare l'azione giardiniere o cortigiano nel primo slot o cortigiano o guerriero nel secondo slot oltre alle azioni che ci portano a prendere i risorsi o a pagarle in white castle ci sono tre azioni principali e andiamo a vederle tutte quando troviamo questa icona possiamo applicare l'azione giardiniere innanzitutto sceglieremo la carta dove vogliamo piazzare il nostro giardiniere i giardiniere hanno una regola di piazzamento che prevede che ci possa essere un solo giardiniere del nostro clan all'interno di un giardino una volta che abbiamo scelto dove piazzare il nostro giardiniere prenderemo il primo giardiniere a sinistra della nostra riserva dei meeple e andremo a scoprire una risorsa di questa risorsa vi parlerò tra un attimo diciamo che posso permettermi solo questo giardino a questo punto pagherò il valore del contadino in cibo e potrò applicare gli effetti delle carte in questo caso si tratta di prendere tre monete dalla riserva diciamo che il giocatore blu piazzerà qui il suo dado per applicare l'azione guerriero l'azione guerriero ha un cosso in ferro che troveremo nei campi di addestramento in questa zona quello che dovremmo fare sarà prendere il primo guerriero sullo slot dei guerrieri nella nostra riserva pagare il costo in ferro piazzarlo sul campo di addestramento e ottenere i bonus o le azioni che ci permette di fare quel campo di addestramento in questo caso 5 monete nei campi di addestramento ci possono essere quanti guerrieri vogliamo e di ogni clan alla fine della partita otterremo un punto vittoria per ogni guerriero presente nel campo moltiplicato per i cortigiani presenti nel castello e a questo punto è il caso che vi parli dell'azione cortigiano quando ci troviamo in un luogo dove è presente l'icona del castello possiamo applicare l'azione cortigiano innanzitutto pagheremo due monete prenderemo il primo cortigiano nello slot anche questa volta a scoprire una risorsa e lo piazzeremo alle porte del castello a questo punto possiamo decidere se fare anche la seconda parte dell'azione cortigiano ovvero pagare due madreperle o cinque madreperle per fargli fare effettivamente la scalata sociale quindi fargli fare un passo in su pagando una sola madreperla o due passi pagando cinque madreperle in questo caso il verde ha solo tre madreperle quindi ne userà una sola decidendo di fare la scalata sociale quindi di salire su un piano sul castello il giocatore verde potrà scegliere una qualsiasi stanza dove fermarsi diciamo che mi voglio fermare qui le stanze non hanno alcun limite di cortigiani che possono ospitare e nemmeno dello stesso clan a questo punto il giocatore dovrà prendere la carta della stanza dove si è fermato e sostituirla a quella che ha sulla sua plancia personale questa verrà capovolta e messa accanto a quella nella zona della lanterna piazzerà questa nuova carta che gli consentirà anche di applicare una delle due azioni bianche presenti su di essa in questo caso io voglio i due ferri ovviamente prenderà una nuova carta da piazzare nello slot vuoto se non ci fossero più carte a disposizione semplicemente applicherebbe gli effetti di una delle azioni su sfondo bianco senza mettere la carta nella sua area personale se una scalata sociale terminasse nelle stanze del doimo all'ultimo piano del castello innanzitutto se ci fosse uno spazio disponibile sulla carta il giocatore ci si piazzerebbe sopra ottenendo il bonus relativo ad ogni modo tutti i giocatori che si fermano sulla stanza del doimo anche se la carta è piena otterrebbero il bonus lanterna anche in questo caso non c'è limite alle persone che possono frequentare le stanze del doimo ma nel gioco sarà possibile anche piazzare i dati all'interno della nostra plancia personale ovviamente dovremmo scegliere il dato corrispondente al colore e piazzarlo sopra e ovviamente a meno che non giochiamo un 6 dovremmo pagare la differenza in questo caso avrei dovuto pagare tre monete otterremo le risorse visibili della linea del dado che abbiamo piazzato in questo caso un cibo e in più potremmo applicare l'azione corrispondente nella carta azione in questo caso due ferri eppure durante la partita potremmo ottenere dei sigilli doimo i sigilli doimo serviranno per pagare determinate azioni ma potranno essere convertiti in un qualsiasi momento per una qualsiasi risorsa o una moneta però sono anche fondamentali per lo scorrere del tempo e per dimostrare la nostra influenza infatti sul tracciato dello scorrere del tempo tra ogni stagione sì perché queste sono le stagioni dovremo pagare un sigillo daimo per passare dalla primavera all'estate due sigilli daimo per passare dall'estate all'autunno e tre sigilli daimo per passare dall'autunno all'inverno quando durante la partita ci capiterà di poter applicare un'azione con il ventaglio russo potremmo istantaneamente prendere i punti corrispondenti ovviamente sul tracciato dei punti quando troveremo questa icona potremmo applicare gli effetti come se fossimo nel pozzo quando troviamo un dado colorato potremmo applicare le azioni di qualsiasi dado di quel colore siano presenti nel castello nella stessa maniera quando troviamo questa icona potremmo applicare qualsiasi azione che vogliamo che abbia uno sfondo bianco questo dado è jolly quindi ci consentirà di fare qualsiasi azione vogliamo presente nel castello quando troviamo invece questa icona potremmo applicare qualsiasi azione presente all'interno dei nostri domini personali quando sui punti saranno presenti un totale di soli tre dadi sarà finito il round il giocatore che si trova con il segnalino influenza più avanti sarà il nuovo primo giocatore nelle partite con più persone se ci fosse una situazione in cui i segnalino sono impilati sarebbe quello che ha il segnalino più in alto ad essere il primo giocatore se ci fossero dei giardinieri dove è presente ancora un dado in ordine di turno si applicherebbe l'effetto della carta giardino a questo punto potremmo riprendere tutti i dadi di tirarli per preparare un nuovo turno e ovviamente dovremmo spostare questo monolite verso il nuovo turno alla fine dell'ultimo turno del terzo round andremo a calcolare il punteggio ai punti che abbiamo sul tracciato dei punti dovremo aggiungere anche quelli che abbiamo conquistato grazie alla nostra influenza li troviamo nella parte inferiore di questo tracciato otterremo un punto per ogni cinque monete che non abbiamo ancora adoperato un punto per ogni cinque sigili da emo che sono ancora nella nostra area personale un punto se abbiamo dalle tre alle sei risorse due punti se abbiamo sette risorse otterremo un punto per ogni cortigiano presente alla porta del castello tre punti per ogni cortigiano al primo piano del castello sei punti per ogni cortigiano al secondo piano del castello dieci punti per ogni cortigiano presente al terzo piano del castello otterremo punti per i guerrieri che si trovano nei campi di addestramento a seconda del campo di addestramento dovremo moltiplicare tutti i guerrieri presenti nel campo di addestramento per tutti i cortigiani presenti all'interno del castello otterremo i punti dai contadini in base alle carte dove l'abbiamo piazzato e ovviamente che ottenuto il maggior numero di punti potrà festeggiare perché il suo clan è nelle grazie del doimo e questo era white castle il gioco come avete visto ha dei componenti veramente meravigliosi abbiamo tantissimi meeple abbiamo quella specie di totem che serve per tenere il conto dei round abbiamo gli ironi che servono per il turno insomma abbiamo tantissimi i sigilli insomma abbiamo tantissimi materiali forse anche troppi il tutto però al servizio di un gioco che come dicevo nell'intro ha delle meccaniche estremamente eleganti e in più è anche splendidamente ambientato sembra infatti effettivamente che il nostro clan stia cercando i favori del doimo il gioco è veramente stupendo e partita dopo partita comincerete a capire effettivamente come strutturare al meglio la vostra strategia nel gioco ci sono tantissime cose da fare dovrete ovviamente tentare di fare la la vostra scalata sociale piazzando i vostri cortigiani nel palazzo ma dovrete anche capire quando e come adoperare i vostri contadini senza contare i guerrieri che sono strettamente legati ai cortigiani già perché più cortigiani mettiamo nel palazzo più valore avranno i nostri guerrieri insomma sembra tutto veramente un gestionale ma che gestisce la politica sembra effettivamente di essere in uno di quei film in cui si vede la storia e noi tentiamo di farla il gioco a me è piaciuto veramente tanto e partita dopo partita ho cominciato a apprezzarne di più tutte le sfaccettature ed è una cosa che capiterà anche a voi partita dopo partita comincerete a capire al meglio quali sono le azioni da fare e quale fare in combo con le altre riuscirete anche a sbloccare delle sorte di combo insomma questo gioco è veramente molto molto bello però ha un enorme difetto io parlo sempre delle scatole malottimizzate e per lo più mi riferisco a quelle troppo grandi questa scatola è troppo piccola non ci entra tutto quello che c'è dentro e a volte ho pensato che alcuni componenti come per l'appunto gli aironi o i ponti come dico sempre nel video potessero essere di più e vi dico che defustellato tutto il materiale messo in altre bustine qui dentro non riuscirete a chiudere per niente la scatola però il gioco è veramente molto bello e vi consiglio assolutamente di procurarvelo se riuscite a questo punto mi aspetto di sapere da voi cosa ne pensate di white castle se l'avete provato quali sono state le vostre sensazioni e tutto quello che pensate di questo titolo scrivendolo qui un commento su youtube ma anche su facebook istante twitter tic toc a questo punto non resta altro che se lo darci per trovarci sempre qui sempre nel castello bianco around the table ciao a tutti